La grammatica di Maria si intitola così il libro di Suor Naike Monique Borgo che racconta vite intrecciate al Vangelo. Luca Ceciriello. Una Maria, la madre di Gesù, dei nostri giorni, raccontata cioè con uno sguardo attuale che tuttavia non perde la ricchezza della tradizione. E la visione è proposta da Suor Naike Monique Borgo, religiosa orsolina del Sacro Cuore di Maria, nel suo ultimo libro dal titolo La grammatica di Maria, edito da San Paolo. Nei vari capitoli l'autrice offre una serie di meditazioni, ciascuna su un brano evangelico che vede protagonista la madre di Gesù, declinando poi il tutto in un racconto attualizzante. Che storie racconta nel libro? Il libro parte da una serie di riflessioni su Maria di Nazareth, quindi il filo conduttore è Maria di Nazareth e accanto a Maria ho voluto aggiungere delle storie di donne che conosco, che sono vive e che a me richiamano quel tratto di Maria particolare che ho voluto mettere in risalto in un capitolo piuttosto che in un altro. Ci sono storie molto diverse perché ci sono le detenute di Sordiciano che incontravo quando ho fatto servizio là, ci sono delle madri di famiglia, professioniste nell'ambito della comunicazione, piuttosto che la violinista che incontro quando giro nel centro di Vicenza. Ecco, storie che comunque hanno una dignità e anche molto da insegnare. Obiettivo dell'opera è provocare il lettore affinché, a partire dal culto a Maria e dalla sua vita, ciascuno ritrovi un suo personale sguardo interiore, una vera e propria grammatica dell'esistere. Perché la grammatica di Maria? Perché Maria è un ottimo esempio per imparare la grammatica delle relazioni, c'è una grammatica personale che è il modo in cui ciascuno di noi si relaziona, il modo in cui ciascuno vive le proprie relazioni e Maria ci fa da maestra, ecco, ci apre la pista per imparare una dimensione più ampia, comprendere la nostra grammatica personale e la grammatica di tutte le relazioni. Grazie.